Ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinews TV, l'appuntamento delle ore 12 che apriamo con un nuovo collegamento in esterna. Torniamo sulla questione via Mercato Vecchio, ne abbiamo parlato ampliamente anche ieri in occasione del Consiglio Comunale con la discussione di diversi ordini del giorno proprio per capire quale sarà la destinazione futura della via da parte dell'amministrazione comunale che ha annunciato per volontà del Sindaco Fontanini di renderla pedonabile una volta che saranno effettuati i lavori di ripavimentazione. La nostra Francesca Santora in collegamento è diretta con noi con l'assessore Barillari per capire un po' di più, soprattutto sul fattore autobus. Ben trovata Francesca, te la linea. Buongiorno David, con noi l'assessore Barillari, primo firmatario come capogruppo di Forza Italia di un ordine del giorno che è stato approvato dal Consiglio Comunale per mantenere il passaggio degli autobus in via Mercato Vecchio. Perché è importante ribadire che i bus devono continuare a passare? Ecco, infatti ha fatto benissimo a usare i termini perché questi vanno immediatamente smentiti. Non abbiamo chiesto la permanenza della percorribilità per gli autobus ma abbiamo chiesto che venga garantito un servizio. Correttamente è stato un lavoro direi tutto sommato d'Equipe che è l'ordine del giorno poi è stato approvato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale, è stato limato e reso preciso in modo tale che sia chiaro e specificato e così è la forma definitiva che è stata approvata. Che venga garantito un servizio, cioè il servizio di possibilità di accesso, di mobilità per le persone anziane e disabili, cioè quelle persone che hanno delle difficoltà a camminare, per le quali fare già 100-200 metri è un'impresa e purtroppo ci sono tante persone che sono in queste condizioni e quando poi invecchiamo a tutti quanti poi la camminata può diventare pesante perché il cuore della città deve essere accessibile alle persone più fragili. Noi dobbiamo garantire ai portatori di bisogni prima che ai portatori di interessi. Quindi a che genere di mezzi state pensando? Non all'autobus gigante, diciamo magari a bus navetta, più piccoli, ecologici? Nel momento in cui noi abbiamo centrato l'ordine del giorno sulla parola servizio, questo è il concetto chiave, il servizio di accessibilità e mobilità proprio all'interno del centro storico, il mercato vecchio direi che è proprio per antonomasia il punto nevragico al quale le nostre mamme, i nostri papà e i nostri amici con disabilità meno fortunati di noi devono poter accedere e col mezzo che decideranno poi gli esperti quali deve essere. Il nostro compito come politici e amministratori è quello di chiedere che venga garantita una funzione, poi saranno i tecnici a dirci quello che deve essere, certo compatibilmente con quella che sarà l'idea di città, la vocazione che la giunta, l'amministrazione vorrà dare alla città di Udine, al centro storico in particolare e tutto sarà funzionale a questo, diciamo che l'infrastruttura sociale deve essere un servizio e questo deve essere un punto fermo e questo mi ha fatto molto piacere, sia stata approvata all'unanimità da tutta l'occasione comunale, dopodiché con l'idea di sviluppo di centro e come questo verrà realizzato, la tipologia di pavimentazione, la tipologia di mezzi, elettrici o meno, dimensioni, questo ce lo dirà il futuro, ce lo diranno gli esperti, credo che ci siano delle possibilità tecnologicamente avanzate, alle quali non siamo in grado di pensare e sarebbe superficiale che uno che fa l'assessore anche avesse la presunzione di ritenere e sapere qual è il mezzo giusto per l'anno in cui realizzeremo questa cosa senza averne le competenze, quindi siamo molto soddisfatti come partito di Forza Italia e anche gli amici fratelli d'Italia ci hanno seguito e poi tutti ci hanno veramente seguito, la Lega si è aggiunta immediatamente e perché insomma direi che è un segno di civiltà, questo è un vero segno di civiltà secondo me. Quindi i prossimi passi su questa strada quali saranno? Uno studio tecnico per capire quali sono le soluzioni migliori? Ma adesso la parola passa agli esperti, ovvero ai tecnici, l'importante è che sia stato stabilito e sia stato messo una forma, non dico perentoria, ma diciamo un concetto che non è preceduto da congiuntivi, da condizionali, quandounque si ravvisi, certamente diciamo che oggi possiamo dire che verrà garantito l'accesso a via mercato vecchio per le persone con disabilità, con disagio di ambulazione e agli anziani. Quando poi si svilupperanno, entreranno nel vivo i lavori sappiamo che questa cosa sarà preservata, di questo non siamo soddisfatti, non starà a noi decidere se deve viaggiare una navetta o un mezzo elettrico con 10 persone, 20 persone, basta che queste persone possano liberamente poter transitare come noi oggi possiamo fare, ma non va sempre così la vita, parcheggiando ad esempio in piazza Primo Maggio. Grazie Giovanni Barillari, a te David. Grazie, grazie a te Francesca al tuo ospite, abbiamo fatto dunque ulteriore chiarezza sul futuro di via Mercato Vecchio dopo il Consiglio Comunale di ieri sera, rimaniamo in tema politico, ci spostiamo da Udine a Trieste perché si è aperta questa mattina una nuova seduta del Consiglio regionale, la 59esima, e nella prima giornata d'aula della sessione di fine marzo si è presentato il nuovo consigliere regionale, Emanuele Zanon che per progetto FVG per una regione speciale è subentrato al consigliere Christian Vacker della stessa componente politica dopo un ricorso al Tar da parte dello stesso Zanon, sindaco di Cavasso Nuovo. Nel dare il benvenuto al consigliere, il presidente Zanin ha ringraziato anche Vacker per l'impegno profuso in questi mesi come componente dell'ufficio di Presidenza. Zanon ha quindi giurato recitando la consueta formula nella duplice versione italiana prima e friulana. Poi in precedenza la presidente Zanin aveva espresso a nome dell'Assemblea il cordoglio del Consiglio per la scomparsa della consigliere della Commissione regionale pari opportunità Cecilia Savonitto e al consigliere regionale Enzo Marsino per la morte del padre Silvio. Sempre durante la seduta Rigo De Paoli è stato eletto difensore civico regionale l'aula si è espressa con 37 voti favorevoli. La candidatura unica presentata dal capogruppo di progetto FVG Mauro Di Berta è stata sottoscritta dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti. De Paoli, in cui è scienza dalla magistratura ordinaria e presidente degli organismi di vigilanza di Autovie Venete e di Friuli a Veneto Sviluppo Sgr, è nato a Tolmezzo nel 1944. Rimarrà in carica per cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Questo dunque quanto è successo all'interno del Consiglio regionale, ma all'esterno stamattina ne abbiamo parlato anche nella precedente edizione, c'è il sit-in dei lavoratori della DM Electron di Buia che oggi sono in sciopero per otto ore dopo la decisione dell'azienda di portare a diversi esuberi il trasferimento in Romania del reparto produttivo. Abbiamo ascoltato Gian Paolo Roccasalva, segretario regionale della Fiume Cigelle che è lì con i lavoratori per sentire poi quali saranno anche le istanze che verranno presentate al tavolo convocato dalla giunta regionale proprio sul tema DM Electron. I lavoratori sono qua, sono fuori, sono arrivati giù, chi in corriera, chi in treno, chi in auto, siamo qua fuori, noi stiamo attendendo che ci chiamino dentro, c'è questa fortissima preoccupazione rispetto all'annuncio che l'azienda ci ha dato venerdì, cioè quello di chiudere tutte le attività produttive, quindi tutti i reparti di produzione vuol dire mettere in discussione più della metà, più della metà dello stabilimento di Buia, ma io dico a questo punto qua che c'è la chiusura totale di Buia perché io penso che i lavoratori non possano accettare così stupidamente una chiusura senza reazioni. Noi siamo rimasti, non dico stupiti e meravigliati perché ce l'aspettavamo, la manifestazione o le iniziative che abbiamo fatto a dicembre scorso lo stavano a significare. Il fatto che adesso l'imprenditore voglia ribaltare le responsabilità ai lavoratori dicendo che è stata proprio quella iniziativa a convincerlo a chiudere ogni attività di produzione a Buia è una scusa meschina che noi respingiamo con forza, non possiamo pensare che una settimana di sciopero abbia fatto scappare tutti i clienti. Questa è un'azione che è stata premeditata dall'imprenditore per cui se è vero che lui dichiara che si è rotto il rapporto di fiducia con i lavoratori, io penso che i lavoratori lo possano dire altrettanto e con molta più forza. Come posizione, come richiesta anche da parte vostra, non sono sufficienti naturalmente gli ammortizzatori sociali ma chiedete che ci sia un possibile nuovo imprenditore perché questa realtà rimanga aperta sul territorio? Sì, allora l'offerta tra virgolette che si è stata così proposta, quello degli ammortizzatori sociali per chiusura di reparto, quindi una cassa integrazione straordinaria, beh diciamo che è una cassa integrazione straordinaria senza uscita perché è evidente che alla fine dell'anno di cassa integrazione c'è solo la disoccupazione, quindi è una cosa che noi non possiamo accettare, non possiamo accettare una gestione delle eccedenze e basta. Noi ci aspettavamo un piano industriale, venerà il riscorso, abbiamo ricevuto un piano di dismissione, inaccettabile. Chiederemo alla Regione che si faccia parte attiva per trovare una soluzione alternativa. Ci rendiamo conto che non è facile, è difficilissimo trovare imprenditori soprattutto del settore, però io penso che per salvare questa unità di produzione sia l'unica strada percorribile. Ed ora apriamo la pagina di Cronac andando in autostrada perché sono segnalate diverse code lungo la A4 come potete vedere dal sito di Info Viaggiando, code che si stanno sviluppando a tratti a causa di traffico intenso tra Redi Puglia e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia e potete vedere proprio dalla grafica con anche l'incolonamento che interessa il bivio tra Udine Sud e la A4, una situazione questa che sovente si presenta nella giornata di martedì per la ripartenza del traffico dei mezzi pesanti provenienti dall'est Europa. Sempre la cronaca, torniamo con l'incendio che è divampato nella notte a Pesaris di Prato Carnico in località Borgo Sant'Antonio, Rogo, interessato a un'abitazione che funge anche da albergo diffuso, vedete le immagini, bruciati completamente il tetto e il primo piano dell'edificio. Sul posto hanno operato per diverse ore i vigili del fuoco di Tolmezzo e di Udine assieme ai volontari di Rigolato e Fornia Voltri. Fortunatamente le fiamme non hanno interessato le abitazioni vicine, ingentissimi danni all'immobile, è riuscito a mettersi in salvo in tempo l'unico residente dello stabile. In corso di accertamento le cause che hanno portato alla combustione è possibile un guasto della canna fumaria. Lo stabile è stato dichiarato inagibile dagli stessi vigili del fuoco. Incidente stradale invece è mattinata a Roveredo in Piano, la prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta per l'incidente stradale tra un'autovettura condotta da un cittadino americano e un furgone cabinato. L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale in via Pionieri dell'area in direzione a Viano. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli, mentre il personale sanitario ha prestato le cure agli occupanti. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Altro incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Rive d'Arcano con una donna ciclista del 1948 che si è infortunata, ha riportato un trauma cranico e ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Udine. Diversi poi gli interventi dei carabinieri del comando provinciale. Partiamo da diversi interventi per risse segnalate in città con una ventina di cittadini afghani protagonisti. L'intervento dei carabinieri ha portato anche al deferimento di uno di essi. Si è poi ubriachi molesti in città, in due diverse situazioni. La prima all'interno di una riunione per alcolisti anonimi. L'episodio si è verificato in un centro di trattamento udinese dove si offre assistenza proprio a chi ha problemi da dipendenza. L'individuo è stato invitato ad allontanarsi ma la sua resistenza ha fatto in modo che si chiedesse aiuto ai militari per farlo andare via. Una volta arrivati sul posto, i militari, l'uomo aveva già tagliato la corda. Inserata in una pizzeria al taglio, un avventore in evidente stato di ebrezza ha disturbato clienti e personale. Sul posto è arrivata una pattuglia, ha identificato il soggetto. Si tratta di una cittadino ganese che inizialmente si è rifiutato di dare le proprie generalità. È stato così condotto in caserma, denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale. Sempre i carabinieri della compagnia di Udine ma della stazione di Codroipo hanno deferito in stato di libertà per uccisione di animali e esplosioni pericolose un 72enne del posto che utilizzava le proprie armi regolarmente detenute, le vedete in quest'immagine, per uccidere gatti e volatili che transitavano per una sua proprietà. Le armi, una pistola e tre fucili, tutti ad aria compressa, sono stati posti sotto sequestro. Riferimento per guida in stato di ebrezza infine alla Tisana per una 51enne friulano la cui violazione è stata accertata mediante l'etilometro. E ancora i carabinieri di Campo Formido sono intervenuti per un uomo di classe 1974 che ha denunciato un'ennesima truffa online. Il quarantenne aveva messo in vendita sul sito subito.it un cassone da cantiere del valore di 1800 euro. Poco dopo un acquirente lo ha contattato, ha dimostrato interesse per l'articolo. A quel punto il truffatore ha chiesto all'uomo di recarsi in posta per avviare le pratiche di pagamento tramite uno sportello postamat. Fornite gli indicazioni, il venditore ha eseguito tutti i passaggi che poi però hanno portato alla truffa. I numeri inseriti infatti hanno messo in atto un versamento di 1800 euro sul conto dello stesso truffatore. A proposito di furti invece, ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la sottrazione di denaro dai dispositivi dell'ospedale di Udine e del padiglione 7 in particolare. La denuncia che è stata presentata ai militari dell'arma fa presagire che l'autore di questo furto possa trattarsi di persone che conoscevano molto bene il luogo dove appunto è venuta questa effrazione dei dispositivi e il prelevamento del denaro in corso di quantificazione. Andiamo avanti ora e torniamo all'intervento da parte della Polizia Locale dell'Uti Medio Friuli sul fronte del controllo dei mezzi pesanti a Pontebana sulla Statale 13 stamattina a Basiliano. Siamo andati a seguire proprio le operazioni di verifica che hanno visto protagonisti molti autotrasportatori stranieri. Il controllo dura qualche decina di minuti dal punto di vista strutturale, tecnico. In più poi abbiamo un controllo anche dei tempi di riposo e di guida dei veicoli, ovvero viene scaricato quello che noi chiamiamo massa di dati perché i veicoli sono dotati di un cronotachigrafo. I più moderni hanno un cronotachigrafo digitale che è un vero e proprio computer di bordo che registra appunto le pause e i tempi di guida differenziati per conducente. Questo ci permette di verificare, scaricare i dati con dei particolari software, di verificare se i tempi appunto di guida e di pausa e di riposo sono rispettati rispetto alle norme. Per quale motivo vi concentrate sui mezzi stranieri? Perché sono quelli che normalmente infrangono le regole oppure perché hanno regole diverse rispetto alle nostre? Ecco, attualmente la maggior parte dei veicoli controllati sono stranieri, parliamo di europei anche extraeuropei perché questi veicoli hanno delle norme diciamo da punto di vista della gestione anche del controllo i tecnici dei mezzi diversi dalla normativa nostra italiana e alcuni di questi mezzi non avendo le stesse norme dal punto di vista appunto delle revisioni e quant'altro entrano nel nostro stato in una qualità che non è proprio idonea tecnicamente per la sicurezza stradale. Quindi sul posto noi riusciamo a fare delle veri e propri controlli, possiamo dire una piccola revisione per capire se il mezzo è idoneo alla circolazione in sicurezza nelle nostre strade. Dall'esito di questo controllo del primo mezzo è risultato che il conducente non ha riposato per due ore e mezza e pertanto è stata erogata una sanzione di circa 400 euro. Poi c'è la mancanza sul mezzo, problemi tecnici, la mancanza dei parafanghi e dell'obbligo dei limiti di 70-80 sul retro del rimorchio. Un ultimo flash di cronaca a Trieste, la Polizia di Stato ha riferito in stato di libertà la procura per lesioni personali aggravate, una donna slovena nata nel 1984, residente a Gorizia. Per futili motivi ha aggredito il compagno in un appartamento di Opicina, il quale è stato soccorso dal 118, accompagnato in ospedale a Cattinara per le vistose ferite alla testa al braccio sinistro e la tumefazione di un occhio. Gli operatori della volante hanno notato varie tracce matiche nel salire le scale del condominio e una volta entrati in casa hanno trovato nel lavello due coltelli e altri oggetti da cucina sporchi di sangue, così come nel balcone un secchio d'acqua e detersivi con il quale erano stati lavati da poco i pavimenti. Ricostruito l'episodio, la donna è stata denunciata e il PM di turno ha disposto il suo allontanamento urgente dalla casa con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'uomo. Riepriamo ora la pagina sportiva, ritorniamo dal nostro Maurizio Ferrari sui campi del Bruseschi per ulteriori aggiornamenti sulla preparazione dei bianconeri e non solo. A te Maurizio. Sì, grazie David per la linea. Ci siamo spostati sul campo numero 3 dove è uscito davvero da pochissimi istanti dalla nostra inquadratura Emil Alfrezzano che così come Marco D'Alessandro hanno lavorato qui alle mie spalle insieme ai preparatori dedicati per un programma differenziato, loro gli ultimi a essere rientrati nella truppa dei giocatori che escono in esterna, non ancora invece nel gruppo della prima squadra che continua ad essere ancora condizionato da assenze sia per quello che concerne ancora l'infermeria inevitabilmente ma anche per le nazionali. Sono sette i giocatori che scenderanno in campo o comunque sono impegnati nelle rispettive selezioni per la giornata di oggi, chiaramente Igor Tudor spera di poterli abbracciare quanto prima per poter iniziare a lavorare con loro. Nel frattempo nella seduta di questa mattina ha provato a sfruttare il tempo a sua disposizione e soprattutto dei giocatori che sono rimasti qui, elementi anche importanti come Fofanà, Pussetto, Sandro e altri giocatori della prima squadra mescolati alla truppa della primavera per iniziare a dare anche qualche indicazione su come vuol far girare la palla. Quindi questo è il lavoro che si è svolto sul campo numero 4. Chiaro che però dovrà attendere quantomeno tra la giornata di domani e quella di venerdì per lavorare a schieramento completo, schieramento compatto per tracciare poi quello che sarà all'11 per una gara che si gioca a sabato alle ore 15, quindi il tempo a disposizione è chiaramente limitato e qualsiasi momento, anche questo dove magari ha tanti giovani della selezione giovanile che avrà altrettanto un impegno importante perché domenica mattina alle 10 arriva al Palermo a Manzano e sarà una sfida fondamentale per alimentare ulteriormente le speranze di salvezza. Questo è quello che è successo questa mattina in una seduta cominciata presto alle 10 con un ampio lavoro in palestra e poi l'uscita sui campi molto più tardi proprio per trasformare poi quello che è stato il produttivo lavoro all'interno delle strutture qui sull'erba del Bruseschi. Però Igor Tudor l'abbiamo ascoltato anche ieri durante la puntata di Udinese Tonight. Abbiamo percepito anche quelle che sono le sue prime sensazioni del ritorno nel campionato di Serie A e di come vuole approcciare l'Udinese. Allora andiamo a risentire un piccolo estratto delle parole del mister durante la puntata di ieri sera. Per un allenatore, per tutti quanti, diciamo più tempo passa meglio si deve sentire la tua mano. Poi anche dipende di bravura di ognuno, magari se uno è bravo lo può fare in un corto periodo poi dipende, è una cosa importante avere tempo perché è così nel calcio e anche nella vita. Poi come ho detto anche all'inizio qua sulla conferenza per me non cambia niente in senso 4, 3, 8 o 300 partite io faccio sempre il massimo come giusto che sia, full gas da primo allenamento fino a ultimo, cioè mi dedico al massimo, do tutta quella qualità che ho e poi se questo va bene, se questo basta si vedrà in campo. Avrai anche poco tempo per lavorare? Come si affronta una situazione così? Cioè come hai pensato di lavorare? Eh ma questa è una bella domanda perché come hai pensato se non hai tempo, non puoi lavorare. No, io scherzo. No, bisogna fare meglio le circostanze che ci sono. Quando parliamo di scheda, cioè in senso che sono le partite più difficili e anche quelle più facili, quello non è un problema perché poi alla fine giochiamo contro tutti come tutte le altre squadre, il problema è quando arriva un allenatore nuovo, c'è un giorno di provare qualcosa nuovo, questo è il problema, perché dopo magari dici no, faccio una o due, poi ho tempo, invece ci sono le 5 o 6 partite, quante sono consecutive che poi decidono, però va bene, non ci lamentiamo, lavoriamo, se ci sono un allenamento o due lo sfruttiamo al massimo, poi vediamo partita dopo la partita. Il tempo, una componente chiaramente fondamentale per lo sviluppo di quelle che saranno le idee di Igor Tudor, tempo che inevitabilmente stringe invece per la sfida contro il Genoa e non a caso domani la seduta si terrà non alla mattina ma alle 15 per cercare proprio di avere quanti più uomini possibili di rientro dalle selezioni nazionali. Questo è il tema per la giornata di domani. Per la giornata di oggi invece, nella nostra diretta proprio delle 15, andremo anche a fare capolino su un amichevole che riguarda però il fronte delle giovanili. Parliamo dell'Under 15 di mister Max Rossi che quest'oggi sarà impegnata in un test contro la rappresentativa FWG, tra l'altro giovedì ci sarà analoga amichevole per l'Under 17 in un programma chiaramente di lavoro anche per quelle che sono le formazioni delle selezioni giovanili regionali. La seguiremo e ne parleremo più diffusamente anche giovedì sera all'interno di Orizzonti Bianconeri. Ci collegheremo dunque da Cervignano anche per riepilogare quanto è successo questa mattina. Per il momento invece Davide è tutto e la linea torna a te. Grazie, grazie Maurizio, hai fatto bene a ricordare l'appuntamento alle 15 con tutte le altre informazioni sportive di giornata. Noi prima di salutarci diamo un'occhiata a cosa è successo in Italia e nel mondo con le Flash News dell'Ansa. Fermati tre giovani a Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne straniera. Gli abusi sono stati commessi il 21 marzo scorso in un'auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della città. Le violenze sono state riprese coi telefonini dai tre identificati grazie a un video che la ragazza aveva girato con loro in un locale e da quello inviato l'indomani da uno degli orientatori che la invitava a uscire ancora insieme. La vera corsa per le presidenziali del 2020 in America parte adesso. Le conclusioni del rapporto del procuratore speciale Robert Mueller sono piombate come un terremoto sulla scena politica statunitense. Ma a tremare non è più il presidente Donald Trump, bensì i suoi avversari politici, quelli che su Russiagate avevano fatto la loro scommessa più grande in vista della riconquista della Casa Bianca e che ora invece devono fare i conti con una realtà ben diversa da quella che avevano sognato. I democratici insomma sono sotto shock. Un vero incubo quasi come quando nella notte dell'8 novembre 2016 arrivò l'ammazzata della sconfitta di Hillary Clinton. Il tycoon l'ha spuntata anche questa volta vincendo per il momento forse la partita più dura e spianando la strada verso la campagna elettorale per la sua rielezione. L'euforia di Trump in queste ore è incontenibile. Chi gli sta vicino parla dei giorni più belli della sua presidenza e a fatica tenta di convincerlo a non strafare, a restare cauto. Dopo mesi di durissimi attacchi in cui ha più volte accusato Robert Mueller di caccia alle streghe, il presidente riserva parole di elogio anche per il procuratore che nelle indagini ha agito onorevolmente, ha amesso. Intanto uno dei prossimi obiettivi di Trump potrebbe essere quello di imprimere finalmente una svolta nei rapporti con la Russia di Vladimir Putin rimasti finora in stand-by proprio a causa del Russia Gate. I dirigenti dei social media saranno passibili di pene detentive in Australia se le piattaforme non rimuoveranno contenuti terroristici. Lo ha annunciato il premier Morrison dopo gli attacchi nelle moschee di Christchurch trasmessi dall'attentatore in diretta Facebook. Ed ora lo sguardo alle previsioni del tempo, l'informazione come detto ritornerà alle ore 15. Grazie per l'attenzione e rimanete con noi. Dopo una notte di vento con la perturbazione di ieri sera che appunto ha portato più vento che pioggia, vento anche forte, stamattina vedi il ritorno del sole, sole che sarà la caratteristica diciamo la giornata, giornata di sole pieno sotto la regione con temperature però più basse rispetto ai giorni scorsi, quindi le massime arriveranno intorno ai 17-18 gradi in pianura e sulla costa qualche grado in meno così anche diciamo a tolmezzo ma sono comunque il valore intorno ai 15-16 gradi. Lo zero termico si è abbassato, si è portato intorno ai 1200 metri questa mattina, nel pomeriggio arriveremo ai 1300 quindi in quota fa freddo, meno 6 sulle zone tipo Zoncolane e Lussale questa mattina. Con vento sostenuto in quota che sarà anche lì la caratteristica della giornata per quanto riguarda appunto le zone più alte delle nostre montagne. Per domani al mattino nuvolosità variabile, abbiamo degli strati di nubi in alta quota che passano da norma, che non produrranno nulla e nel pomeriggio di domani tornerà il sole, giornata comunque anche qui abbastanza fresca con temperature massime in leggera diminuzione perveremo un grado 2 rispetto ad oggi, minime abbastanza fresche con temperature intorno ai 3-4 gradi in pianura, 5-6 per quanto riguarda la costa, possibilità di gelato invece su tutte le valli di Alpine, quindi si ritorna a una situazione più tardo-invernale che primaverile, però non succede niente dal punto di vista di precipitazione, come già detto nel pomeriggio avremo sole pieno. Giornata poi di giovedì con cielo sereno, poco nuvoloso, ancora qualche velatura potrà interessarci ma ancora con caratteristiche di tempo secco e ancora con prevalenza di venti moderati da nord-est che sarà la caratteristica della settimana, un po' più sostenuti sulla costa e in quota. Stessa situazione anche per venerdì, cielo poco nuvoloso con ancora un po' di vento da nord-est, quindi una settimana caratterizzata dal tempo secco e da temperature che non arriveranno più a 20 gradi come nei giorni scorsi, probabilmente torneremo ai 20 gradi, verso il fine settimana il tempo è buono appunto fino a fine mese. Buona giornata!